1.500 ospiti in due giorni e 10.000 assaggi serviti. La prima edizione di Bollicini in Castello, in scena sabato e domenica nell'antico maniero di Mornico Losana, ha dato ragione agli sforzi delle 19 cantine in vetrina per la regia del consorzio Tutelavini Oltre Popavese e dello staff di FQ Communication Mabedo. Un weekend trascorso tra colloqui, amicizia, bottiglie sciabolate e calici sorseggiati con grazia accanto a creazioni culinarie d'eccezione. Senza alcun finanziamento pubblico, a trionfare sono stati l'impegno e la lungimiranza di un gruppo di privati desiderosi di aderire per primi, con veri pionieri, alla missione di soffiar via la polvere dai gioielli dell'Oltre Popavese. La provincia di Pavia e il comune di Mornico Losana hanno concesso il patrocinio e partecipato con entusiasmo alla due giorni, dando un segnale di condivisione e di unità. I produttori archiviano dunque un avvincente traguardo, con la presenza di un vasto pubblico, costituito da privati, ma anche da professionisti della ricettività e del turismo. In vista di Expo Milano 2015 è molto importante valorizzare il colpo d'occhio inedito sulla patria del vino di Lombardia. Sabato e domenica il pubblico di Boliceni Castello ha ricordato agli organizzatori che si sta percorrendo la strada giusta. Grazie. 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 Grazie.